Tutte le province della Toscana, ad eccezione di Prato e Pistoia, perdono posizioni nella classifica della qualità della vita pubblicata da Il Sole 24 Ore. La capofila a livello regionale rimane Firenze, che però in un anno scende dal terzo al sesto posto, finendo giù dal podio. Sei gruppi di indicatori, ricchezze e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Dopo Firenze, la classifica delle città toscane vede dunque Pisa al ventunesimo posto e perde 11 posizioni rispetto all'anno scorso, Siena al trentesimo posto con meno 26 posizioni, Prato al trentunesimo posto, guadagna a 14 posizioni, Arezzo al quarantacinquesimo, meno 8 posizioni, Lucca al sessantatreesimo, meno 16 posizioni, Pistoia rimane stabile al sessantaquattresimo, Livorno al sessantaseesimo, con meno 14 posizioni, Massa Carrara al settantaduesimo posto, meno 12 posizioni, Grosseto al settantaquattresimo, meno 17 posizioni. Per l'area pratese, un salto in avanti dunque di 14 posizioni rispetto allo scorso anno, grazie al primo posto per nuove iscrizioni di imprese, per stranieri residenti, per divario tra retribuzione maschile e femminile nel settore privato, ultimo posto invece per librerie, tra gli ultimissimi per start-up innovative. Appesare sul capoluogo toscano sono stati dati relativi alle denunce di furti con strappo e rapina in strada, i canoni di locazione che erodono fino all'84% del reddito medio dichiarato e alcuni nuovi parametri come il consumo di farmaci contro l'obesità. Infelice anche il ranking per le ondate di calore, è al centesimo posto. La performance migliore Firenze la ottiene nella classifica dei comuni aperti che prende in esame indicatori come social media, open data, portali cartografici aperti, app municipali dove si piazza prima. Buoni risultati anche per ambiente e cultura. In testa la classifica del sole 24 ore Udine seguita da Bologna e Trento.